ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con salva un amico siamo alla struttura zofila empa di sondrio siamo con tiziana e con la piccola tabby qual è la sua storia allora tabby arriva con i suoi quattro amici lei ha un fratellino dal sud sono arrivati da pochissimi giorni niente un cucciolino di quattro mesi una futura taglia media futura taglia media 15 barra 20 chili un incrocio un incrocio anche per lei sì il percorso educativo deve iniziare in famiglia quindi la famiglia che lo adotta dovrà impartire le prime regole le prime regole le prime cose giusto che cosa è importante insegnare all'inizio l'inizio è importante tutte le dritte da dare come comportarsi le uscite come comportarsi fuori il rapporto con il cibo tante cose che devono imparare ecco durante la notte come ci si deve comportare con un cucciolo durante la notte ci sono cuccioli molto bravi nel senso loro imparano subito dove lo metti qual è il suo spazio in cui devono stare dopo già se lo abitui nel letto è una cosa come vediamo è un cucciolo quindi molto attivo molto vivace e vede loro e dunque è anche molto legato al fratello al fratello quello si sono sempre stati assieme in questo periodo per cui lo vede fuori e lui vuole andare vuole andare ecco in questo periodo qui in canile seguirà anche un percorso educativo magari anche per portarlo al guinzaglio non sono ancora abituati loro non sono abituati né alla pettorina né al guinzaglio per cui iniziano oggi a mettere la pettorina devono abituarsi anche alle passeggiate il primo giorno che escono in passeggiata per cui si abituano in fretta qual è il percorso hanno terminato anche il percorso a livello di vaccinazioni quello si è terminato per loro il primo step per cui adesso quindi è pronta anche tabby è pronta è pronta per essere adottata dunque speriamo davvero che una nuova famiglia si presenti per adottare la piccola tabby per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile empa di montagna in valtellina al numero 349 554 1691 o alla mail sondrio chiocciola empa.org Grazie a tutti